Le nuove modalità di organizzazione del lavoro e i continui cambiamenti che ci coinvolgono durante la vita lavorativa necessitano di conoscenze che consentano di acquisire quelle capacità non solo operative ma anche cognitive e sociali necessarie per affrontare quei momenti e di incertezza che ogni novità porta con sé. Questo corso di alta formazione punta proprio a fornire quelle conoscenze necessarie per capire le organizzazioni, prendendo in considerazione sia fattori individuali, sociali e relazionali, sia fattori sistemici e organizzativi, a garanzia di un rinnovato impegno verso la salute e sicurezza del lavoratore in questa profonda trasformazione del mondo produttivo. Grazie a tutti!